siamo qui per aprire lo slime, aspetta lo slime bag salsa moco, quattro slime, differenti tipi di slime no sono sei slime, sono sei, vediamo se sono sei, allora vediamo quanti ne fai, allora primo qual è questo? primo fai vedere non lo capisco, una cosa piccante è verde è questa cosa qui ma ah chili chili, aspetta no, avanti lo vedono qua, questo verde c'è scritto chili, chili slime, tipo mexicano poi questo è quello del sushi del sushi, questa allora è salsa di soia? sì o è salsa barbecue? salsa, sì, tipo wasabi, una cosa del genere no, wasabi è quella verde sì, è tipo salsa di soia questa cosa grande che è? questa grande è questa cosa qui da maialino salsa tipo barbecue no lo so, tipo salsa barbecue ma qui non c'è, qui ci stanno disegnate le carte pokemon le carte pokemon sì, qui dietro e sono quattro allora, vedi? no, cinque no, quattro no, uno, due, tre è uguale sono due uguali e vabbè, ce ne è capitata due uguali e sono finite sono quattro è una rivestina eh, le rivestine stanno anche nelle altre nella rivestina cosa dice? vediamo qua allora, collezionali tutti allora, salsa moco potrebbe essere il tomato ketchup oppure tomato slim la maionese no, no, fino alle cuore che così vediamo meglio aprile, aprile ah, le devo proprio togliere dalla carta salsa polè sì, qui ti spiega pure un po' di storia addirittura c'è anche la storia delle salse oh, va bene apro prima, insomma gali allora la parola che intuisce deriva da sale falis la salsa salata sicuramente per il Mediterraneo dai, i tempi dei Romani qui abbiamo addirittura mi sembra vediamo questa qui dentro ne parlava addirittura il poeta Plauto e che cos'è Gaia? eh, questa qui salsa moco con il capito apriamo anche questa una salsa slime da assaggiare veramente farà ma non si apre il tappo è chiuso il tappo come si aprono? non mi sa che si apre da qui oh, come si apre? aspetta vediamo se ci sono delle istruzioni qui sono un po' in pelina su queste cose guarda quante ecco le collezioni sarebbero queste le collezioni sarebbero queste queste sono tre queste sono due maionesi ok perché questa è la maionese carina insomma carini come l'hanno fatta però non ho capito come si aprono sono carine le riviste invece perché parlano anche un po' di storia di come sono nate ecco la scoperta del pomodoro da parte di Cristoforo Colomo quando è nato nelle americhe poi l'olio usato ai tempi dei romani non sono molto semplici da aprire credo vero Gaia? poi il grano per far la farina nell'antica Roma dobbiamo cercare di capire solo come si apre allora spaccandoli con un sasso il tappo non si apre non si svita il tappo quindi io presumo che si debba aprire ah ho cominciato a togliere il tappo no 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 ma veramente? no aspetta vediamo un po' questa doppia vediamo un po' questa doppia che è quella doppia? che come ne abbiamo due uguali prendiamo questa doppia era questa quella doppia? no quella doppia era questa quest'altra vediamo un po' noi le apriamo tutte intanto questa è un'altra perché così magari si capisce bene questa questa ad esempio forse si apre col tappo però bisogna proprio aspetta allora svitiamo un po' qui grazie a mamma che ha le unghie e può romperla e poi buttiamo tutto non è che lasciamo qui in giro bene il cestino oh vedi ecco guarda oh veramente questa sicuramente qua si svita non lo so vediamo tanto apri questa va così facciamo quindi che mani sporche di colore qua i pennarelli sono le finte salse chiaramente sono degli slime per giocare Gaia o li puoi mangiare veramente? no non li vuole mangiare vedo che ci stai litigando con quella scolpazione quanta mamma che ha le unghie? in due non riescono ad aprire un gioco per bambini è veramente eccolo ecco la salsa signori la salsa barbecue Gaia vi saluta perché qui insomma mi si è addormentata una mano vero Gaia? no ciao fai ciao ciao arrivederci al prossimo filmato di Gaia ciao ciao